Non possono chiederci cifre che per alcuni di noi sono insostenibili e pretendere che le paghiamo subito. Scoppia un nuovo caso per il condominio popolare di via Malpighi ad Arezzo e riguarda i cosiddetti canoni condominali che comprendono tutte le utenze che a fine anno dovrebbero essere conguagliati. Un bilancio condominiale che non ci sarebbe stato anno per anno ma che sarebbe stato invece approvato dopo quattro anni nel novembre 2016. Lo stesso Sunia aveva fatto presente questa anomalia nello scorso autunno. Ai condomini sono dunque arrivati i conguagli, tra loro c'è chi deve pagare e chi invece deve ancora avere denaro indietro. Tra coloro che dovranno pagare ci sono inquilini che devono versare anche somme importanti che sfiorano i 3.000 euro, quasi impossibili da sostenere in un'unica rata. Arezzo caso avrebbe già concesso 15 dilazioni ma secondo il Sunia queste dilazioni dovrebbero essere come minimo di 4 anni perché tale sarebbe il ritardo con cui appunto Arezzo casa avrebbe comunicato questi importi. La società per il momento che gestisce il patrimonio ERP in tutta la provincia di Arezzo risponde che i bilanci sono sempre stati approvati regolarmente e che appunto sono state concesse queste 15 dilazioni. Venerdì prossimo 21 aprile i condomini si ritroveranno in un'assemblea pubblica alle 21 proprio nel condominio popolare di via Malpighi.